Formazione e solidarietà. L'iniziativa di solidarietà, organizzata dall'indirizzo alberghiero della scuola, mira a fornire un supporto, anche grazie alle donazioni dei fornitori, all'attività di Casa Francesco. Mensa che si occupa di offrire un pasto caldo e un po' di atmosfera familiare a chi si trova in situazioni di difficoltà. Siamo molto grati alla dirigente e a tutta la scuola, perché ormai è diventata una consuetudine quella di offrire il pasto per i poveri che lo prendono a Casa Francesco, che è una mensa solidale e interparrocchiale della nostra città. È un bel segno anche perché c'è il coinvolgimento di diverse aziende che loro poi finalizzano nel cucinare tutti i prodotti che loro offrono e quindi offriamo una sera il pasto caldo grazie a questa iniziativa. I ragazzi hanno messo un ingrediente in più, che è il loro amore, così come i professori, così come i nostri tecnici. È un ingrediente unico, significa preparare per qualcuno che in quel momento non solo si alimenta, si ciba, ma trova la solidarietà dei giovani. E questa è una nostra missione, quella di coinvolgere i giovani nella donazione, nel donarsi agli altri e di vivere meno egoisticamente la vita. Un segno importante per la nostra scuola è proprio la presenza di questa nostra consuetudine che è ormai arrivata al terzo anno. Istituto Enaudi che vanta ben due indirizzi, agrario ed alberghiero. Entrambi gli indirizzi sono fortemente integrati nel processo di formazione, fornendo una conoscenza del percorso e della preparazione del cibo che va dalla terra alla tavola. Integrazione quindi non solo nei percorsi formativi, ma anche nel tessuto sociale e lavorativo della città di Canosa. Scuola che ha ricevuto la visita ad aprile del principe Alberto II di Monaco, che è rimasto tanto colpito da proporre una partnership con l'istituto alberghiero Monegasco. Intitolata al principe anche una sala della scuola. È stato anche un inizio, ci auguriamo, che vedrà i nostri ragazzi affacciarsi anche in altre terre, in altre culture, perché lo scambio culturale è molto importante. E i ragazzi in questo veramente massimo a disponibilità, così come oggi, i valori della solidarietà, della formazione, perché i ragazzi sono veramente bravi, capaci e desiderosi anche di apprendere, di scoprire. E' chiaro che spetta a noi l'ardo compito di motivarli al punto giusto e per questo abbiamo avuto già un'ampia risposta. Lo stiamo vedendo giorno per giorno con la nostra didattica, con lo staff, con tutto il team che è all'opera quotidianamente. Quello che abbiamo fatto oggi è quello che facciamo sempre e soprattutto anche far visitare al mondo esterno quello che è la nostra scuola. È la filiera perfetta l'educazione alimentare, la sostenibilità in riciclo alimentare. Dobbiamo insegnare a questi ragazzi i veri valori educativi, culturali e quello che abbiamo come ricchezza, che non vanno mai trascurati o sottovalutati.